...degli orari di apertura delle sale da gioco e molto giustamente per i gestori che non rispettano tali norme in particolare le sale di tutti potranno restare persi dalle 16 alle 22 ma fare la finanza, oltre ad essere stata scritta sperando in parte di rispettare alle 22 alle 8 ci dirigiamo verso la prima sala giochi all'inverno cambiamo i nostri soldi e accendiamo indisturbati all'altra la sua come vedete iniziamo a giocare alle 22.58 passiamo ad un'altra sala giochi andiamo e lo scenario che ci si presenta è lo stesso svolta in funzione dei giocatori in azione assistiamo oggi a una vincita indiretta i giocatori dimostrano di essere al corrente dei nuovi oggetti consentiti lo metti da dentro il muso alle 11 e mezzo accediamo ad un'altra sala anch'essa popolata da numerosi clienti di tutte le età i cartellumi da slot e WLT rigorosamente accedi a mezzanotte passata andiamo a visitare un'altra sala giochi all'ingresso ha diligentemente sposto un apposito cartello riportante i nuovi orari di funzionamento consentiti per slot e WLT peccato che non siano altrettanto diligentemente applicati e travi nella sala infatti riusciamo a giocare e anche a vincere la missione di ricevuta che attenta la legittà la data e l'orario insomma amici come avete visto qui tutti giocano liberamente ben al di fuori degli orari consentiti in barba alle nuove norme andiamo a riguardarle nice